Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Il video di oggi so che vi piacerà perché è la continuazione della serie sui setup. È il quarto setup che andiamo a individuare e è il più potente in assoluto secondo me come individuazione di supporto o resistenza. È un setup che purtroppo non si presenta spesso ma quelle poche volte che si presenta va colto veramente al volo perché dà un'ottima opportunità. L'ho chiamato cluster intermedio proprio perché va ad identificare un cluster di prezzo che nasce durante il rallentamento di un movimento molto forte e molto impulsivo. In quest'area di rallentamento si va a concentrare tantissima liquidità e fa così che quest'area di prezzo reagisca solitamente molto spesso in una maniera molto precisa al suo primo test successivo alla formazione. Questo ci permette di impostare un'operatività molto molto precisa davvero ci permette di mettere lo stop loss molto vicino mantenendo comunque un rischio di posizione tutto sommato non troppo elevato. Quindi garantendo un risk to reward ratio ottimo a fronte appunto di un rischio di posizione tutto sommato moderato. Come vedremo ci sono diversi modi di impostare l'operatività a seconda proprio dell'approccio del prezzo da parte del prezzo con questa area al suo primo test. Nel video di oggi vi spiego tutto quindi come individuare il setup come impostare l'operatività nelle varie condizioni quindi dove mettere lo stop loss e dove mettere i take profit. Più di così si muore alla fine anzi in più facciamo anche qualche esempio grafico andando a vedere storicamente dove si è presentato sotto diverse forme così da coprire un po' tutto il copribile. Più di così non riesco a immaginare. Quindi se apprezzate sempre i miei video i miei contenuti cortesemente lasciatemi un like so che vi piacerà e so che vi piace la serie sui setup perché vi dà davvero indicazioni molto molto pratiche. Vi condivido con voi quello che io utilizzo più di questo veramente non so che fare iscrivetevi al mio canale cliccate la campanellina così siete i primi a vedere i miei video. Tra l'altro tra poco arriviamo 11.000 e sapete cosa succederà a 11.000 lo so che lo sapete so che volete che succeda quindi iscrivetevi fate iscrivere tutti quelli che conoscete mi raccomando così ci arriviamo il prima possibile. Infine seguitemi sui canali social i link sono in descrizione. Andiamo a esaminare dalla A alla Z questo setup e l'operatività in sua presenza. Seguitemi. Ho chiamato questo setup cluster intermedio proprio per rendere anche idea di come visivamente si configura e tra poco lo capirete meglio. È un nome che gli ho dato io chiaramente non è scritto sui libri di testo né da nessuna parte anche perché è una cosa abbastanza arbitraria. Però io ne ho identificato empiricamente un'estrema efficacia nell'individuazione soprattutto di un'area di prezzo di supporto resistenza. Come vedremo il prezzo si comporta molto bene e soprattutto molto spesso si comporta bene pertanto diventa un'ottima area di prezzo sulla quale impostare un determinato tipo di operatività che tra poco andremo a vedere. Mi aiuto e soprattutto vi aiuto con delle slide per rendere più chiaro e soprattutto più consultabile anche dopo il video questo setup dove nelle slide appunto metto i key points, quelle cose da ricordarsi assolutamente. Ovvero come si identifica il cluster, come ci si opera sopra, entry, exit e cose di questo tipo e tra poco lo andiamo a vedere. Queste slides sono scaricabili vi ricordo gratuitamente, il link ve lo lascio in descrizione quindi lo trovate lì. Alla fine andiamo a vedere anche un paio di esempi grafici che male non fanno. Individuazione di cluster di supporto resistenza molto forte tra due impulsi concordi e qua già si capisce una delle condizioni ma tra poco lo andiamo a vedere meglio. E conseguente operatività, chiaramente un setup non è nulla senza l'operatività nel suo intorno. Prima cosa, quando si forma questo cluster, quando è che questo setup è definito tale? Durante un forte trend, quindi ci deve essere in corso un movimento molto forte e una candela di rallentamento localizzato. Cosa significa? Immaginatevi un movimento sostenuto verso l'alto e tra due impulsi c'è una candelina rossa. Ok? Quindi un impulso rialzista, una candela rossa, un giorno che il prezzo si rallenta per l'appunto un attimo e poi una continuazione rialzista. Chiaramente può avvenire anche durante un down trend, quindi impulso ribassista, candela verde o magari anche due e poi continuazione ribassista. L'importante è appunto che il trend in corso sia forte e che ci siano poche candele di rallentamento. Idealmente, come ho scritto qua sotto, deve essere una sola candela. Chiaramente non esistono leggi che o è così o niente. Idealmente una sola candela, ma anche se sono due o tre va bene. L'importante è inquadrare il fatto che quello deve essere un breve rallentamento durante due impulsi molto forti e non un ritracciamento, attenzione, se quello è un ritracciamento tra appunto due movimenti perde di significato questo setup. Se ne generano altri, chiaramente, ma non questo. I due movimenti tra i quali si trova o si trovano le candele di rallentamento devono essere impulsivi e sostenuti da volumi. Ok? Lo ripeterò tante volte perché è la cosa più importante in assoluto. Più forti sono i movimenti tra i quali si trova il rallentamento e più ha questa significatività il setup stesso. L'area delimitata, quindi, dalla candela o dalle candele di rallentamento diventa il cluster intermedio. Quindi quella è l'area di supporto o resistenza. Bene, molto semplice fin qua. Come ci comportiamo? Soprattutto come si comporta il prezzo in approccio al cluster? Allora, una volta che viene formato il cluster, chiaramente siamo abbastanza lontani perché abbiamo detto è un livello intermedio tra due impulsi molto forti. Quindi noi siamo o vicini a un top o vicini a un bottom. Quindi può venire testato. Il più delle volte accade così, ovvero dopo un po' di tempo. Ho dato un dato così per farvi capire, una quindicina di candele. Oppure poco dopo. Quindi siamo lì, magari ci sono due, tre, quattro candele, poi subito un test del cluster. In entrambi i casi il cluster non perde di validità, ma come immagino abbiate già capito, nel caso uno è più significativo, perché comunque più spazio e tempo trascorre dalla sua formazione al suo test e più ci si accumula sopra liquidità. Nel primo test del cluster quindi possono succedere tre cose, chiaramente. O il cluster mi innesca, adesso qui ho fatto il caso in cui il cluster si trova tra due impulsi rialzisti e poi ci ritracciamo sopra. Innesca domanda e respinge il prezzo, quindi funge da supporto. Chiaramente nel caso opposto innesca offerta e funge da resistenza. Oppure il cluster viene penetrato senza esitazione, quindi non funge minimamente da supporto. oppure il prezzo consolida, oppure fa movimenti incerti, quindi magari si ci rimbalza sopra ma senza particolari volumi, nella sua prossimità. Attenzione, cosa che ho dimenticato ma aggiungo è importantissima, l'operatività su questo setup si ha solo al primo test del cluster e soltanto nei casi uno o due, ovvero respinta forte del prezzo oppure penetrazione del cluster. Nel caso di consolidamento oppure movimenti incerti, non è chiara la direzionalità del movimento e di conseguenza l'operatività decade. Operatività per l'appunto. Come si imposta? Quindi entry ed exit, dove li metto? Allora, l'entry sul... ci sono due casi in cui si può posizionare gli entries. O sulla domanda, quindi devo essere lì davanti e vedere magari che sto approcciando il cluster, magari scendo di time frame per osservare la price action un po' meglio. Se vedo che, appunto, supponiamo sempre che il cluster sia un supporto, ci sto ritracciando sopra, vedo che magari ho una candela a hammer, quindi con shadow lunga, con volumi molto alti, alla quale seguo una candela verde, fai pensare a domanda, allora entro. Oppure magari ci arrivo, ho una candela engulfing verde subito dopo, con dei bei volumi, e allora magari entro lì, insomma, segni di domanda. Oppure anticipo, il che mi espone chiaramente a un rischio maggiore, perché se poi abbiamo il caso di penetrazione verrò stoppato, però nel caso in cui poi il test vada bene, mi espone a un potenziale profitto più alto. Quindi c'è da capire anche un po' come è posizionato anche il trend di lunghissimo periodo, perché se il trend di lunghissimo periodo è rialzista, e magari questi due impulsi tra cui si trova il cluster intermedio potrebbero essere un primo movimento visto più dall'altro, allora ha senso magari fare un entry anticipatore, proprio per, comunque, dando più peso, dando più probabilità al fatto che ci troviamo in un uptrend anche di lungo periodo. Personalmente, di solito io prediligo l'entry su domanda, su un setup di questo tipo, ma perché in questo modo, ecco, ci si tutela forse un po' di più. Tra poco, vedendo gli esempi grafici, capiremo magari meglio. Altrimenti, se abbiamo la penetrazione del cluster, allora lì vado più tranquillo, forse è un setup più pulito, perché metto già il mio limit order sul retest dalla parte opposta. Il fatto che quel cluster intermedio nasca come cluster intermedio e poi venga subito bucato, attenzione, senza esitazione, vuol dire che non è che lo testo dall'alto, poi rimbalzo e poi lo buco, no, devo subito bucarlo come un coltello buca il burro, taglia il burro. In tal caso io metto il mio limit order lì sopra, abbastanza confidente del fatto che lo ritesterò dal basso. Stop loss, in entrambi i casi abbastanza stretto, è uno dei vantaggi di questo setup. Comunque, se io perdo il cluster oppure lo ritesto, perde significatività e quindi decade l'operatività su di esso. Quindi io posso abbassare il rischio tenendo comunque uno stop loss stretto, ottenendo un effetto leva sintetica, tra virgolette, che mi permette di amplificare comunque discretamente il profitto. Ovviamente lo stop loss dovrà tenere conto di eventuali weeks, quindi di eventuali candele con shadows lunghe, in tal caso ce la posiziono un po', dando un po' di respiro anche alla shadow, e in ogni caso mai appiccicarlo al cluster, sempre un po' di respiro ce lo lascio, però capite bene che è un ottimo risk to reward ratio, cioè generalmente, il fatto che il cluster stesso che mi fa da entry mi fa anche da segnalatore di dove mettere lo stop loss. Target di take profit, anche questi sono discretamente semplici, perché ottengo la prima zona di resistenza, magari per escludere il rischio, oppure sto trend follower, soprattutto come dicevo prima, se mi trovo in presenza di un trend di lungo periodo da seguire, allora magari lo seguo con un trailing stop, cercando appunto di cavalcare il profitto il più possibile, questo dipende da situazione a situazione. Ultima cosa, poi andiamo a vedere i grafici, qualche integrazione, quindi il cluster acquista maggior significatività quando si verificano alcuni fattori, alcuni dei quali li abbiamo già detti, ma ha ripetito a Juvent. Uno, ridotta dimensione della candela di rallentamento, il fatto che il cluster intermedio sia compatto concentra meglio la liquidità e quindi ci dà maggior significatività. Dovete immaginarvelo come un livello di prezzo al quale si concentra molto l'order book, proprio perché è visto come unica zona, diciamo così, in cui il prezzo è esitato un pochino e quindi confluisce tanta liquidità lì dentro. Due, alto volume della candela di rallentamento, stesso identico motivo, un volume molto alto e magari combinato anche con una ridotta dimensione, genera una maggior significatività perché fa da calamita per altra liquidità. Forza del movimento rallentato dalla candela, quindi la forza dei due impulsi tra i quali la candela di rallentamento si trova, il che significa volumi e ampiezza, sempre quelle sono le unità di misura della forza di un trend. Unicità del rallentamento durante un movimento, che significa? Significa che se durante un movimento, prima di ritracciare, magari faccio due o tre cluster intermedi, purtroppo quei tre cluster intermedi perdono un po' di significatività. E lì, per andare a individuare quale è meglio degli altri, può essere davvero difficile. Anche lì è meglio basarsi sul movimento in generale, quindi vedere se qualche livello magari è già stato testato, sui volumi, perché l'ultimo impulso, se ha pochi volumi, si tende a non considerarlo, oppure addirittura si può frammentare gli ingressi sui due cluster intermedi, però l'operatività diventa davvero più difficile, l'unicità gli dà un valore aggiunto. Timeframes più ampi uguale maggior significatività, un po' come sempre. Un appunto che aggiungo io, sotto al timeframe giornaliero, si alza troppo il numero di farsi positivi, quindi io mi manterrei comunque questa operatività dal giornaliero in su, quindi settimanale. Giornaliero e settimanale. Anche le quattro ore si comporta discretamente, però vedrete con l'esperienza che il numero di farsi positivi inizia a diventare rognoso. Ultima cosa, confluenza con altri fattori, quindi point of control, ovvero il prezzo a maggiori volumi movimentati, fibonacci, quindi un livello di ritracciamento di fibonacci importante, supporti a resistenze storici, eccetera, eccetera. Insomma, tutto ciò che va a rafforzare quel livello di prezzo come supporto a resistenza, ben venga, attira altre liquidità. Ultima cosa, ma non ultima, e l'ho già detta, ma la ripeto anche in chiusura, perché è la cosa più importante in assoluto, il cluster è significativo solo se si forma durante un movimento primario, non durante un ritracciamento o un trading range. Quindi se io ho un impulso rialzista, poi ritraccio, e durante il ritracciamento ho due impulsi ribassisti e un cluster intermedio, vale 100 volte meno che quello durante due movimenti impulsivi di un trend primario, proprio perché ci sono diversissimi volumi in gioco, e quindi la liquidità cambia in maniera veramente drastica. Quindi il mio consiglio è di valutarlo soltanto durante un movimento primario, niente da ritracciamenti e ovviamente niente movimenti laterali. Questo è quanto, ovviamente seguitemi su Telegram che li individuiamo insieme, se ne trovo uno ve lo condivido, e adesso andiamo a vedere qualcosa direttamente sui grafici. Il primo che vi mostro è sul giornaliero di Bitcoin, ed è uno, anzi probabilmente è quel setup che vi ha fatto chiedere a me, ma ce lo spieghi un po' meglio, perché l'ho citato in alcune analisi. Guardate, in questo caso abbiamo, vabbè, un movimento laterale, poi un movimento impulsivo di breakout dal movimento laterale, una candela di rallentamento, i volumi sono sempre sopra la media, e poi un altro movimento impulsivo fortissimo, addirittura che arriva al massimo, al top. Tra questi due movimenti si è formato, vedete, un cluster intermedio, questa candelina rossa. Questa candelina rossa delimita l'area di cluster intermedio, ok? Questo. Andiamo a vedere come reagiamo. Qua passa spazio e tempo, quindi si consolida liquidità in questo punto, liquidità in domanda, fin tanto che non viene bucato. Approciamo, 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 candela verde, guardate, anzi, candelina rossa, dopodiché, candela con shadow lunga e chiusura in verde. Quindi qua si è generata domanda, quindi io posso posizionare un limit order in questa zona, oppure entrare. Lo stop loss lo metterei, vedete, sotto a questa wick, quindi un po' sotto al livello di prezzo, o altrimenti, l'altra alternativa è metterla sotto alla shadow, vedete, della candela che ha generato il cluster intermedio stesso. Quindi, ad esempio, qua a 8.900, oppure più stretto a 9.050. Io forse l'avrei messa qua sotto, per lasciare un po' più di respiro. Primo take profit, poteva essere, vedete, questa prima zona di resistenza. Tac, e infatti ha funzionato discretamente bene. Qua poi è stato ritestato, e di nuovo ha funzionato, però io non avrei operato su questo secondo test, proprio perché perde di significatività. Ok? Quindi, first test, best test, come si suon dire. Questo è quanto. Poi, un altro cluster intermedio, guardate, sempre sul grafico di Bitcoin, senza andare troppo lontani, lo abbiamo qui. Guardate, in questo, durante questo fortissimo impulso, guardate i volumi a incalzare, abbiamo un rallentamento qua, con volumi altissimi, sempre. Quindi questo diventa un cluster intermedio. Guardate, si configura abbastanza bene. Opla, così. Lo faccio di verde. Qua, vedete, abbiamo il primo test, subito dopo, con una forte candela di domanda, perché abbiamo una penetrazione con chiusura, con la shadow molto più lunga del corpo della candela, e quindi mi fa venire voglia di entrare. Stop loss, anche in questo caso, sotto alla shadow della candela che genera il cluster. In questo caso, vista la situazione, visto il forte breakout che c'era appena stato, e visto il potenziale, comunque, di questo rallentamento temporaneo, di essere soltanto un rallentamento, prima della prosecuzione di un trend più ampio, ci stava di più un approccio trend follower, quindi spostando di volta in volta manualmente, lo stop loss alla formazione di nuovi massimi, anziché fare subito dei take profit. Ok? Altrimenti, il primo take profit poteva essere tranquillamente in questa zona, che è la prima zona di resistenza. Vedete che anche in questo caso, ha funzionato molto bene. Qua, guardate, avevamo anche questa zona, volendo identificabile come cluster intermedio, però ci troviamo nel caso in cui ne abbiamo più di uno, ovvero questo e questo. Qual è il migliore dei due? Beh, capite bene che questo si configura molto meglio, soprattutto dopo aver visto l'approccio che abbiamo avuto, che ci faceva capire chiaramente che non c'era intenzione di ritornare fino a lì. Volevo vedere se riuscivamo a trovarne uno anche in direzione opposta. Allora, guardate, questo è un caso interessante, perché abbiamo durante questo forte movimento di breakdown principale, ve lo evidenzio, questo, tac, abbiamo due cluster intermedi. Uno è questo di durata maggiore, diciamo così, perché in realtà queste candele rosse, anche se non sono candele verdi, ma sono comunque candele di rallentamento. Abbiamo fatto un po' di ranging in questa zona e quindi diventa un cluster intermedio, che prolunghiamo, 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 ok. Poi ne abbiamo un altro, se ci fate caso, questo. Eccolo. Quindi andiamo a vedere come ci comportiamo. Ci comportiamo che innanzitutto qua si genera offerta, perché vedete abbiamo un approccio con delle shadows lunghe, questa candela di indecisione, quindi in voglia all'entry. E l'entry con chiaramente uno stop, che potrebbe tranquillamente essere sopra alla shadow, perché siamo in short, primo take profit, la prima zona di resistenza. Ci stava anche qua un ragionamento di trailing stop, anche se comunque il trend era già bello che esasperato, se vi ricordate questa era l'ondata di capitolazione del bear market di bitcoin, quindi forse era più sensato fare già un take profit. Vedete che poi qua abbiamo un movimento di congestione, che fa insomma passare un po' la voglia a chi pensa al proseguire, al forte proseguire di un trend, e dopodiché abbiamo una penetrazione totale di questo cluster, il che lo invalida completamente, perché vabbè già l'aveva intestato, e abbiamo, vedete, un approccio tentato a questo livello di prezzo, quindi il secondo cluster, che uno dice magari è interessante. Quindi se qualcuno l'avesse beccato da qui, ci poteva stare, però vedete, poi viene subito ritestato, e quindi il doppio test mi fa venire voglia di chiudere il prima possibile la posizione, perché qua si invalida. Dopodiché viene bucato e ritestato dall'altra parte, però qua a questo punto diventa un livello di supporto e resistenza canonico, tra virgolette, non più un'operatività su cluster intermedio, che si ha invece sul first test. Dunque, volevo cercarne magari un altro, qua siamo in movimento di consolidamento, però guardate, anche qui abbiamo questa zona di cluster, che comunque è in un momento abbastanza impulsivo, visti i volumi, e in effetti qua abbiamo, ecco, bello, perché è il setup opposto. Abbiamo una rottura, quindi una penetrazione completa senza esitazione alcuna, non ci sono candele intermedie, penetrazione subito e ritest dall'altra parte, e via, che respinge clamorosamente il prezzo. Quindi una volta che viene penetrato così, mi viene subito voglia di mettere il mio limit cell in questa zona qua, proprio per sfruttare il test dall'altra posizione. Abbiamo visto un po' da tutti i lati. Se ampliamo il time frame, guardate come se ne vede magari un interessante, un po' ampio, purtroppo vedete in questa zona, ed è quello su cui si è basato il mio secondo entry long, se mi seguite lo sapete, su Bitcoin, vedete? Abbiamo impulso molto forte, due candele in realtà di rallentamento, e poi un altro impulso molto forte, e qua si forma un cluster intermedio cicciottello, quindi è un po' anomalo, però comunque significativo, soprattutto visto che siamo su un time frame settimanale. L'ultimo su un time frame settimanale, poi vi saluto, l'ho individuato oggi su EOS, guardate, è un bel, beh, si è formato, cioè veramente, ere e ere fa, e abbiamo impulso, fermo, impulso, e poi andiamo avanti, vedete? Ne abbiamo due di cluster intermedi, e anche in questo caso, vedete? Il primo si è comportato bene all'inizio, tac, subito domanda e ha respinto, si è comportato bene una seconda volta, ma già testato, quindi non è più questo stesso setup, e adesso siamo passati a quello sottostante, vedete? Tac, domanda, si è formata un po' di domanda, non ci sono volumi molto interessanti, quindi potrebbe valer la pena attendere una conferma ulteriore, però i più aggressivi potrebbero già sfruttarlo come setup, tenendo uno stop loss comunque sotto alla shadow della candela, e garantendosi un potenziale risk to reward ratio ottimale, nonostante appunto l'elevato rischio di posizione, quindi si può impegnare un capitale a rischio ridotto, mitigando la situazione così. Direi che sono abbastanza esempi, se avete altri esempi, domande, dubbi, qualsiasi cosa, scrivetemeli nei commenti e io vi rispondo, e vi saluto e alla prossima!